Sardegna Pride Il microfono va e viene come tutte le cose più belle Adesso il concerto prosegue, la festa prosegue Al Porto con il concerto Vi invitiamo ad andare tutti là Noi vi ringraziamo di cuore Abbiamo distribuito dei foglietti con il nostro documento politico Leggetelo con attenzione così capirete perché Tutta questa manifestazione Vi ricordo Per chi dovesse prendere il nostro autobus Direzione Cagliari per mezzanotte L'appuntamento è per mezzanotte Al Porto Grazie a voi, grazie a Higero, grazie all'amministrazione Grazie a tutti quanti voi I love you Seguiteci Meno male che non siamo stanchi